Buonasera amici di Radiofonica e benvenuti. Questa sera ci troviamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amsterdam Nation Italia e anche blogger del Fatto Quotidiano. Benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, questa sera siamo qua per parlare di Yemen e del ruolo dell'Italia in questo conflitto. Prima di iniziare, magari ci sarà qualcuno che non conosce bene la storia di questo conflitto. Vuoi farci un riassunto, una breve introduzione, raccontandoci anche i dati statistici? Un conflitto è iniziato nel marzo del 2015, dunque va avanti da due anni e mezzo, tra un gruppo armato ribelle chiamato Houthi, cui si sono unite le forze fedeli all'ex presidente Sarede, posto nel 2011. Dall'altro lato c'è una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, di cui fanno parte altri paesi del Golfo. E questo conflitto sporco, sporchissimo e dimenticato ha prodotto un'ecatombe, una crisi dei diritti umani spaventosa, con morti che hanno superato abbondantemente 10.000, e una crisi umanitaria con pochi precedenti, forse solo quella della Siria è peggiore, con l'80% della popolazione che è dipendente dagli aiuti umanitari, che spesso non arrivano sia a causa del conflitto e dei bombardamenti, che a causa del blocco terrestre, navale, aereo da parte dell'Arabia Saudita. Parliamo un po' dei media, sappiamo che i media hanno sempre un ruolo importante. Secondo te come si sono comportati i media italiani? E per caso sei a conoscenza di come si siano comportati invece magari i media all'estero? In generale questo è un conflitto considerato periferico, può destare un po' di attenzione, perché ormai è inquadrato nel conflitto più ampio di leadership politica, militare e religiosa tra Arabia Saudita e Iran. Per il resto è considerato quasi un qualcosa di locale, per cui sì, ne parlano i media arabi, ma quelli europei e anche quelli italiani no, fondamentalmente perché con l'attenzione concentrata ormai su un unico tema che è quello dell'immigrazione, la considerazione che dallo Yemen non arriverà a nessuno è quella che fa carare l'attenzione. E quindi questo contribuisce ad aumentare la gravità dei fatti, perché se non si conoscono è difficile anche porvi in qualche modo fine, di buono c'è che la stampa italiana si sta interessando sempre maggiormente alla questione che ci riguarda più da vicino, cioè il contributo che l'Italia dà a questo conflitto inviando grandi quantitativi di bombe all'Arabia Saudita. Parliamo un po' di Amnesty International, che contributo ha dato e sta dando Amnesty International e quindi cosa possiamo fare noi cittadini per aiutare Amnesty International o in generale aiutare a risolvere questo conflitto? Dobbiamo essere sinceri, non è che il conflitto lo possa fermare Amnesty International, Amnesty International ha un compito di fornire a chi ha l'autorità e l'influenza sulle parti in conflitto, di prendere delle decisioni per fermarle. Noi abbiamo chiesto più volte un embargo complessivo sulle armi a tutti coloro che stanno prendendo parte al conflitto. in Italia lavoriamo in coalizione con altri soggetti che sono qui stasera, tra l'altro alcuni di loro, per chiedere all'Italia che ponga fine ai trasferimenti di bombe all'Arabia Saudita e quando questo conflitto finirà ci sarà un lavoro enorme da fare dal punto di vista umanitario quindi bisognerà assolutamente far sì che la comunità internazionale devolva destini, fondi per la ricostruzione di questo paese che è distrutto. Quello che noi chiediamo di fare è di sostenere questo lavoro di sensibilizzazione di Amnesty International, ci sono periodicamente degli appelli che possono riguardare fatti specifici che accadono in Yemen o la questione delle forniture italiane all'Arabia Saudita possono essere sottoscritti sul sito amnesty.it. Voglio ricordare che in questo periodo c'è la più grande campagna di raccolta firme di Amnesty International, si chiama Right for Rights e è destinata ad apportare un miglioramento nella vita di alcune persone nel mondo che sono chi in carcere, chi minacciato di morte, chi vittima di altre violazioni di diritti umani e pure questa è sul sito amnesty.it. Perfetto, allora noi ti ringraziamo, ti ringraziamo per il tuo tempo la disponibilità, cari amici da Radiofonica, questo è tutto, ci vediamo alla prossima.